Signore e signore, benvenuti e bentornati su Borderlands devo andare a comprare dei colpi tipo subito vai sul ponte della Sanctuary non è qua ma è qua, 2200 ma abbiamo 133.000 quindi non abbiamo nessun tipo di problema stiamo a livello 33, quasi 34 sto andando sul ponte come ci eravamo lasciati come erate ce l'hai fatta bro scusate se è vicino ma ok, non vedevo bene quanto tempo c'è nella telecamera per registrare madonna come zoom un'ottima cosa però vedete questa è lo switchino va bene va bene va bene andiamo aprire questa cripta sono molto curioso volentieri perché urli? siamo a 50 cm perché urli? via si raggiungi il neon arterial la prossima la apriremo insieme, quando avrai di nuovo le tue ali get cancer ok prometea siamo di nuovo qua? era qui, non mi ricordavo fosse qui io l'acrito e adesso vedremo assolutamente che cosa dirà i nostri amichetti anche se credo che sarà molto divertente, non so se l'ultima puntata non so mai nulla credo di no la stazione apollyon è l'ultima fermata sulla linea centrale prendete l'autostrada principale e dirigetevi fuori città vuoi davvero aprire la cripta? in bocca al lupo? catch a ride? dammi la mappa attenzione alcuni sopravvissuti della maliwan hanno fortificato la rampa d'accesso per passare dovrai sbatterli fuori ti invio delle truppe atlas mi leggi nel pensiero ris devi darmi la mappa è qua non si arrendono neanche dopo la morte del loro leader onorali con la sua stessa vita penso io pi 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 così è comodo eh ok voilà qualcuna cioè perché c'ero io che senso ha a teletrasportarsi di 50 centimetri? non lo so cerca la tua strada io la spianerò per te una bella spada fa sempre comodo quello qua è veloce eh passo non è che ho tutto sto tempo di star qui io dai vitte che sono in eh i ragazzi del volto guardate che bella questa immagine qua me la metterei come ne serve a sempre sul mio iphone check iniamo ok sono qui per questa non me allora fenomeno andiamo ad aprire quella cripta ehi e li vorremmo arrivarci interi a quella cripta idee non vedevo allora che dicessi qualcosa del genere tesoro vi presento il progetto io a lei la amo con tutto me stesso oh sì non cambiare mai come la guida tu io dovrò usare le mani ci serve della musica chissà cosa ci ha lasciato a Ellie un classico oh ma dove corri dove vai a tutti a tutti a tutti a tutti non starla a sentire ce la faremo proprio come su a Tennis che musica ma con il critico probabilmente l'ho sciolto passo passo mi stanno facendo molto dolore ci sto provando altro 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 Sì, proprio, facciamo che rientri dall'altra parte Ma come? Ma cos'era questa? L'avete visto? Cos'era? Dai 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 dai! Ucidanti 5 viene inizio a bordo della camionetta L'elite sta per finire la strada! Nei canali di scarico Sono nata per volare Che beee Passato sopra Si sono passato sotto, vorremmo dire non sopra Che musica, che gioco fantastico Ah, nascosti nelle borgne? L'ho sempre detto che fate schifo e questa è la dimostrazione Posso fare spazio ma prima dobbiamo liberarci di questi rompi scatole Chi è? Non ho paura Aia Ora comincio a diventare interessata Ma lei non spara mai? Anche se non lo fa? Aaaaaaaah Ora ho capito Quattro per quattro per quattro per quattro per quattro per quattro tutte le volte Ecco la stazione dei trelli Oggiato Non è per niente facile guidare così Nuovi parto sbloccati Andiamo Io sono già andato Già arrivato Stazione di transito Apollyon Poveracci Proprio così I nostri seguaci stanno setacciando la città Da prima ancora che arrivaste Sì, ci penso io bro La bomba Vieni E là Kaboom Allora 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 Calipso Che senso ha Adesso qua Allora Allora Un attimo Un attimo di lag Massa oh Non ho preso uno Chi è Chi è? Chi è? Che botta Che botta incredibile Non ce n'è amici Non ce n'è Che nostri Che nostri Ah il tunnel della crypt Allora Allora Quanto siamo? Quanto siamo? 14 minuti Un po' al limite Trullalero Trullalero Trullalà 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 Pensa che questo Perdonami non si fa così Sono tuo amico io Quest'arma è una bestia Io l'ho ucciso subito Ah io li ammarco tutti Non me ne frega niente Che potenza C'era una lancia che volava qua Vedo alcuni cali di frame che non mi piacciono Ma non è dovuto al mio computer Ai 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 Questo è un ottimo potere Non eravate molti di più Che secondo te Ok Andiamo così Voilà Carichiamo questo Carichiamo questo E andiamo oltre Uccidi i nemici con le granate Uccisi quanti? 75? Eeeh Monster Quindi Questa è un'ottima arma Ma devo dire io ti ringrazio 25.000 25.000 Non so se chiamo Un po' più velocemente Grazie mille Andiamo ben oltre Siamo a 16 17 minuti Quanto siamo? Ok Ancora carica Scusate mi sono dicendo tanto Ma non vedo Perché ho il riverbero della luce Non vedo Ok Mi fullo solo Con le munizioni Ok 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 La creatura che gli eridiani hanno rinchiuso all'interno ha passato gli ultimi millenni a dormire Non credo che si sveglierà di buono Ok Quindi forse è davvero l'ultima puntata? No dai Spero di no Scusate che poi sto aspettando Grid Che faremo tutta la storia Si comincia Poi si parla del 20 ottobre Non mi ricordo C'è anche del Surge 2 Che vorrei fare Però probabilmente lo farò Mi è piaciuto da morire Non sono contento di vedere questo Il Furibond Bellissimo Trump Ger Che cancer Ma si 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 Magari da lì Mi sono già dimenticata di te Guardate E' tutto immune qua adesso E' meglio andare via Che cosa sta Qua sta Occhio si sta trasformando In cosa madonna scusate ma cos'è che togli di più lui che toglie 30 ok ora comincio a avere paura ma come mai tre è diventato un panzer ora mi ha preoccupato ok ora potrebbe diventare un problema la casa vado giù tutta boom ho capito i colpi che puoi sparire ok bro scoppiato bello bello 227 di danno eh non è molto beh 92 33 6 colpi invece che 18 però c'è 100 di danno in più ragazzi questa qua anche non è male pochi caricatori peccato io entro ho molta paura questo punto avrà tipo 100 anni magari pure 200 ma mica se cacciatore mi senti? niente panico sto solo provando un nuovo strumento di trasmissione che sfrutta i poteri di Lilith ok l'eco non riesce a superare i confini della cripta per cui devo usare questo mi chiedo cosa troverà non toccare niente ehè c'è una ragione se la mappa delle cripte ci ha portati qui questa pare dovrà servire a qualcosa penso anch'io ok con cosa la rompo? scusami affascinante questa cripta è collegata da un antico ponte energetico a un'altra cripta queste coordinate sono quelle di Eden 6 ottimo lavoro cacciatore ora conosciamo la nostra destinazione recupera Maya e la sua piccola verde e torna alla nave quanto potremmo di meglio vediamo tu che cos'hai qua 80 di danno 71 di danno io dovevo trovare una mitraglietta con quel danno e anche un fucile va bene tornano da Maya immagino sia di qua pronto? livello 34 pensavo fosse alla fine e mi stava veramente venendo il magone succederà qualcosa dall'altra parte dai no mazza che cerco soltanto di proteggerti e come mollandomi qui sulla nave avevi detto che sarei diventata una cacciatrice l'avevi promesso e lo diventerai ma quando sarei pronta come putta merda? non si dice oh Troi guarda cosa ci hanno lasciato grazie di aver fatto il lavoro sporco cazzo voi svuota Crypt e sparate prima di pensare eh continuate così e sarò davvero una dea noi due saremo dei è quello che ho detto adesso lasciami fare il mio lavoro non dimmi che lo fa rivivere ti prego no cosa stai facendo? prendiamo ciò che è nostro sai questi mostri non proteggono il potere del Crypt sono il potere delle Crypt ah noi ne l'abbiamo ammazzata non l'abbiamo ammazzata tu ce n'è un po' per il parassita attenzione lasciala perdere pensa solo a me diventerà una sirena e poi verrà a farmi un culo così a poi strozi diventerai? pensi davvero che finirà così? tesoro tu non uscirai viva da questo posto ci penso io? un attimo di laggo incredibile mettila giù proprio come è l'ora ditelo un bel casino allora mi dà muore oddio ma cosa stai vedendo? ma noi quanto ci mettiamo a uscire da quella Crypt? pensavo potessi prendere solo da me suppongo da ogni sirena andiamo abbiamo quello che ci serve esatto e anche se poi alla fine riesci a diventare una sirena beh beh l'hanno lasciata libera che va bene io sognario direi che l'appuntamento di oggi ho finito qui c'è nel prossimo video la tuyata box ciao 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 ciao